buona domenica a tutti per i brutti un bacione da michelone un bacione da michelone da michelone buona domenica a tutti come la va ragazzi come la va ragazzi come la va ragazzi come la va ragazzi tutto bene tutto bene tutto bene tutto bene ho dormito e ho dormito 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 tanto 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 veramente sono arrivato a casa ieri 10 fino alle 6 di mattina tutto un tiro distrutta 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 ragazzi veramente non vedo l'ora che venga fine settembre che ricominciamo a fare le live tutto quanto che impostiamo la nuova stagione in una certa maniera perché sono veramente i coglioni pieni anche di questa stagione veramente sono stufo marcio non vedo l'ora di dedicarmi tutto a voi allora prima di tutto ringrazio un po' sempre Andrea perché ho visto mi hai fatto il video lì che ti è arrivata la maglietta sono contento ti sta bene una tagliettina in meno sarebbe stata perfetta però va bene così perché poi magari cresci un po' magari ti ingrasserai un pochettino va bene va bene spero che ti goderai le partite ovviamente tu sei lì di Milano andrai a vedere il Milan spero ci andrei con la magliettina di Michelone ovviamente guarda devo farti complimenti per il video che mi hai fatto tu credimi credimi non è per lecare il culo e si apre un canale spacchi tu perché tu hai proprio la dialettica giusta per fare lo youtuber non è come Michelone qua che balbetta che non gli vengono le parole tu veramente c'hai una dialettica stupenda guarda apri un canale credimi che che pare se ti andrà ma poi poi sei anche sei anche bellino sei giusto per aprire un canale youtuber credimi credimi comunque io ti ringrazio poi ringrazio anche ovviamente no perché devo ringraziare ogni tanto gli iscritti anche i nuovi iscritti poi ringrazio Alessandro sei forte mi piace la tua schittezza a me piace cioè mi commuovo con queste cose qua mi commuovo perché sono debole io quando mi fanno i complimenti poi divento rosso poi ringrazio ovviamente il solito Raffaele e Claudietto che questi qua ovviamente sono i due immancabili e ringrazio Nick che ti ho detto che adesso in agosto io ne ne cerco di 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 come si dice di di far contenti uno al mese ecco il mio motto sarà uno al mese cercherò di far contenti uno al mese poi quando ci sarà fine stagione Natale soprattutto perché ho in mente una cosa per Natale lì sarà un'altra cosa vedrete che faremo arriverà il regalino per tutti e poi ovviamente c'è sempre Gianni 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 Goffredo che è sempre presente anche lui ti ringrazio sempre perché ti ringrazio Marcone Marcone è il mio amico interista che mi chiede un buon inizio ah con le faccine che ridono sì buon e io ho sempre detto criticherò a dicembre a dicembre se a dicembre non arrivano i risultati allora lì cominciano cominceranno veramente a girarmi i coglioni fino a dicembre io non criticherò cioè ovviamente un Juventino quando perde anche le cose anche le amichevoli è deluso perché lo Juventino è abituato a vincere però sinceramente non è che mi ha toccato più di tanto sta partita ovviamente hanno giocato tutti i bambini della next gen e insomma cazzo vuoi dirgli sto qua erano tutti in panchina tanti devono ancora arrivare pare che ormai il mercato giri intorno a questi sei nomi praticamente tre andranno via e tre arriveranno ecco ormai il motto della Juventus è quello uno va via e uno entra ma ormai questo qui è il motto di tutte le squadre perché sono messe tutte male sono messe tutte male a parte quelli là quelli lì non sono messi male quelli lì proprio no ma quello è un discorso che si arangia il Sergio con quelli là a parte a parte quando inizierà il campionato che vedremo le solite ruberie di quelli perché sicuramente verranno aiutati anche quest'anno sicuramente vedremo come faranno quest'anno ad aiutarli quelli là vedremo il motto è quello però vedremo se incomincerà di nuovo quel tram tram dell'altro anno concluso in una maniera schifosa e insomma dai vedremo vedremo saremo curiosi di vedere come poi quest'anno ragazzi c'è anche Conte perché Conte sapete la lingua vi forcuta di Conte vedremo vedremo come come gli andrà contro a quelli là quando succederanno certe cose vedremo vedremo Antonio cosa dirà cosa dirà visto che non gli allena più che è andato a Napoli che ormai la Juventus ormai quello lì non lo caga più l'abbiamo capito l'abbiamo capito ormai tu Antonio la Juventus te la sei giocata te la sei giocata quelli lì gli Agnelli gli Elkan sono persone che se la legano al dito vuoi fare quel cazzo che vuoi sì faranno loro faranno la parte ci siamo ricongiunti abbiamo fatto pace tutto quello che volete però tu la Juventus non la allenerai più mi dispiace Antonio ma se non ti hanno ripreso adesso non ti riprendono più dal mio punto di vista poi il tempo passa anche per te era questo il momento giusto di riprenderti e se non ti hanno ripreso adesso per me non ti riprenderanno più insomma i nomi sono sono quelli che si fanno sono tre sono tre nomi di acquisti e tre nomi di cessione ovviamente gli acquisti sono questo a de Miami come cazzo si chiama del Borussia Dortmund il Borussia Dortmund non lo seguo però diciamo che questo qui dicono ti sparano 50.000 50 pippi vedremo se la Juventus avrà ancora questa i coglioni di tirare fuori cifre importanti sono curioso anche se ovviamente queste cifre importanti le tirerà fuori dalle eccessioni perché questi qua ti sparano 50 milioni per quello l'Atalanta ti spara 60 milioni per Copp Myers Toby Dolly non lo so mi pare che anche quello lì è sui 30 35 milioni e ovviamente ci sono qui tre che si parla si parla si parla si parla vedremo vedremo la Juventus questo Mechanic tutto affermo che non se ne parla ovviamente c'è il caso Chiesa e poi c'è l'accessione di questo Sule 50 milioni penso che la Juventus li ha già tirati fuori vedremo come investiranno questi soldi la Juventus vedremo vedremo chi prenderà io ovviamente spero che non ceda da certi certi prospetti che io ripeto la gente è come Rugani non la cederei ormai ne hai già ceduti tanti si sono svincolati di Pouba non sento più niente che fine ha fatto quello lì è già stato mandato via non 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 sento più parlare di lui se è scaduto il contratto se lo hanno cacciato via a calci nel culo non sento più niente di quello su quello lì quindi sono curioso di vedere spero che Juventus no? cioè non è che ci vuole tanto per mandarlo fuori dei coglioni quello lì non penso che ci voglia tanto no? le carcasse le carcasse e quelli che fanno ancora parte della vecchia cosa di quel beccamortoli devono sparire i vari deciglioli che ha svuotato l'armaglietto poi ma i rugani è già una cosa diversa i rugani è una cosa io dico quelli più 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 nella cerchia più stretta che appartenevano a quelli là devono sparire ce n'è solo ancora un paio no? ancora un paio poi penso che ce ne siamo liberati totalmente totalmente per il nuovo corso allora ho visto ancora tante critiche e non rompete tanto i coglioni per favore dai su non rompete tanto le pali specialmente gli allegrani perché guardate siete una brutta razza siete veramente una brutta razza voi veramente non pensavo di tirare fuori queste parole ma siete una brutta razza lasciate stare motta lasciate stare i giocatori criticheremo a dicembre vedremo a dicembre dove siamo perché io ho questo qua metà stagione gliela do metà non do più una stagione a nessuno metà stagione a metà stagione devi aver assemblato tutto quanto almeno io la penso così a dicembre vediamo dove siamo se siamo ancora dentro a tutte le competizioni come siamo in campionato in champion league vedremo vedremo ovviamente vedremo i nuovi perché questi nomi nuovi che sono arrivati alla juventus ci sono tante aspettative e vedremo insomma io come dice uno vi esorto a iscrivervi di nuovo al canale piano piano ci muoviamo mancano otto per arrivare a 2100 otto anime buone ci saranno otto anime buone per michelone qui per arrivare a 2100 che michelone accontenterà uno al mese uno al mese uno al mese e si tagliano le spese ah ah dicevano ovviamente nick il prossimo mese questo qui di agosto è il mese tuo ti 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 farò farò contento anche te spero che tu mi faccia un video anche tu e poi in settembre vedremo ho una mezza idea di perché siccome io sono buono anche michele caffelate se ne merita una vedremo in settembre di accontentare il nostro amico portuale no lavori nel porto in porto tu quindi vedremo di di ma tu ragazzo mio sono due settimane che ti correvo dietro per questa cazzo di maglietta non mi rispondevi mai non mi rispondevi mai pensavo che eri una fake addirittura e sono andato quello successivo comunque vedrò di accontentare anche te uno al mese uno al mese faccio quello che posso eh ragazzi poi ovviamente ripeto a dicembre quando ci sarà Babbo Natale e vedremo faremo una una roba bella tosta sono contento che anche Andrea si è accorto che Michelone non cazzaro ciao ragazzi ciao a tutti i belli e brutti ci vediamo alla prossima iscrizione al canale mi raccomando fatti bravi ciao